La delibera che ci accengiamo a votare come ha perfettamente rappresentato la consigliera Di Biase arriva in aula con due emendamenti che voteremo successivamente. Questa delibera era arrivata in commissione con il parere contrario degli uffici e al quale parere la commissione si era attenuta proprio perché l'atto era stato considerato non di competenza dell'Assemblea Capitolina. Quindi l'atto è stato emendato, il parere degli uffici è diventato un parere positivo proprio in virtù di questi emendamenti per cui l'atto si presenta in una maniera sicuramente diversa. Io voglio solo ricordare tanto per dovere di informazione e dovere di cronaca che nella passata consigliatura e quando eravamo all'opposizione in alcuni municipi laddove alcune commissioni erano presedute da noi in particolare mi riferisco alla commissione delle lette che aveva proprio competenza se vogliamo su queste problematiche alcuni nostri consiglieri, quindi anche i presidenti di commissione avevano presentato delle mozioni definite non come punti mamma ma definiti come baby pit stop proprio per andare nella direzione di offrire un servizio a quelle mamme che chi è stato mamma e chi è mamma conosce quelle che sono le difficoltà che si incontrano nel momento in cui si ha un bimbo piccolo che deve essere cambiato, assistito in ambienti anche consoni, protetti quindi adeguatamente attrezzati. Ecco, quelle nostre proposte presentate come opposizione ci furono bocciate dall'allora organo di governo delle diverse commissioni. Mi piace ricordarlo questo particolare perché noi oggi in virtù degli emendamenti presentati a questa proposta, noi oggi voteremo a favore di questa proposta di delibera e lo faremo perché siamo sensibili a queste problematiche lo siamo oggi come lo eravamo ieri e quindi ci esprimeremo favorevolmente e sarà un impegno di questa amministrazione fare in modo che non solo le strutture di Roma Capitale come la proposta di delibera propone ma anche si possa estendere tale idea, tale intuizione, tale proposta anche a strutture che non siano di stretta competenza comunale. Ho voluto ricordarlo questo perché veramente è doveroso sottolinearlo ed è doveroso sottolinearlo perché deve esserci un impegno da parte di tutti noi a tutelare con ogni mezzo mezzi che possono andare dalle strisce rossa, dai parcheggi rossa o quant'altro e voglio anche ricordare che in alcuni municipi quelle proposte allora bocciate oggi stanno trovando attuazione. quindi il nostro parere, il Movimento 5 Stelle si esprimerà a favore di questa delibera e voglio ringraziare anche gli uffici che hanno trovato il modo di superare i limiti che avevano determinato il precedente giudizio che al netto di qualunque desiderio polemico che onestamente non mi contraddistingue non mi sarei mai aspettato un errore di quel tipo da parte di chi, come la consigliera Di Biase è esperta della prassi politica. Grazie Grazie Grazie